È stato arrestato in Albania dagli uomini della squadra mobile di Arezzo, Nick Kodra, il trentenne albanese latitante da mesi dopo la condanna a 13 anni di carcere emessa dalla Cassazione per la sparatoria dell'Orciolaia, un fatto di sangue che allarmò non poco la città di Arezzo. Faceva parte di una delle due bande che si affrontarono per il controllo della prostituzione all'alba del 29 marzo del 2009 in cui rimase ucciso un giovane muratore. Sulla testa di Nick Kodra pendeva una condanna per il tentato omicidio di Ruchi Rodian. La questura, infatti, ha comunicato che si è chiusa l'operazione internazionale di polizia che la mattina del 30 dicembre in Albania, nel distretto di Scutari, ha visto gli investigatori retini con il personale italiano dell'Interpol e delle forze di polizia locale trovare e arrestare il pericoloso latitante. Prima della sentenza della Cassazione, Kodra era rimasto in città. Addirittura aveva trovato lavoro come dipendente di un esercizio pubblico. Ora, per lui, la titanza è davvero finita.